Buonasera, ben trovati alla terza edizione del Tg6 che apriamo parlando di ambiente, di mare e di turismo perché questa sera si è tenuto a Pescara un incontro tra i balneatori ed il ministro per gli affari regionali Enrico Costa ministro che è stato intercettato e bloccato proprio prima dell'inizio dell'incontro dalla nostra Francesca Romana Testi. Vediamo il servizio. La posizione del governo punta a garantire e ad affermare alcuni principi che sono principi significativi, importanti, fondamentali. Innanzitutto vogliamo mettere mano ad una disciplina complessiva di riordino che da molti anni manca. E' fondamentale affermare alcuni principi come dicevo prima e il principio essenziale è quello di rispettare quella che è la professionalità, quella che è l'esperienza, quelle che sono le imprese perché dietro ad ogni impresa ci sono delle scelte familiari, delle scelte imprenditoriali, dei percorsi, delle valorizzazioni che è giusto non disperdere. Chiaramente noi dovremo aspettare quella che aspetteremo e valuteremo quelle che saranno le pronunce a livello europeo. Voi sapete che c'è una pronuncia da parte della Corte di Giustizia che è attesa, però è chiaro che questi principi sono principi essenziali, fondamentali. Riteniamo anche che per avviare questa disciplina di riordino, visto che non è una cosa così automatica e così semplice e sia necessario un adeguato periodo transitorio. Alla luce di questi passaggi declineremo poi quelle che sono le nostre proposte. Però oggi c'è un tavolo aperto con le regioni, c'è un tavolo aperto a livello interministeriale perché poi questa materia non è una materia che si può riassumere nelle competenze di un singolo ministero. Ci sono vari ministeri, dallo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai beni culturali e ambientali, al MEF con il demanio. Ecco, io ho cercato di coordinare questa attività, però è chiaro che poi ci sono delle competenze specifiche. Cambiamo pagina, alle 4 di questa mattina c'è stato lo sgombero del mercato etnico di Pescara lungo le aree di risulta della stazione, oltre 200 gli uomini impegnati. Vediamo. Una notizia che era già trapelata il giorno prima, lo sgombero del mercatino etnico di Pescara da parte delle forze dell'ordine è avvenuto con un'operazione iniziata alle 4 del mattino e proseguita per molte ore. All'opera circa 200 uomini tra guardia di finanza, carabinieri, polizia, municipale, forestale e digos. Sono stati i mezzi di attiva a provvedere alla rimozione di banchi e cianfrusaie varie. La strada è stata chiusa in via preventiva fino alle 8.30 di stamattina. La comunità senegalese, dopo l'operazione delle forze dell'ordine, si è presentata con un presidio sotto al palazzo di città in attesa di un confronto con il sindaco. Al centro delle loro richieste c'è l'ufficializzazione della nuova area, individuata per il trasferimento dei regolari. Il luogo è quello individuato da tempo, è il terzo sottopasso murato della stazione. Attendiamo davvero ad oras una via libera da parte di ferrovie dello Stato. E poi il nuovo mercato etnico dovrà essere un luogo di integrazione vera, un mercato in cui non si vendono scarpe contraffatte, ma prodotti tipici provenienti da culture diverse dalla nostra. Nel documento, firmato il 17 maggio dal sindaco Alessandrini, si legge Ordinanza sindacale, contingibile ed urgente per eliminare gravi pericoli del decoro urbano, in particolare dell'abusivismo commerciale e dell'illecita occupazione di suolo pubblico. Tra le pagine si legge anche che dopo l'ultima seduta di mercoledì 20 aprile, avvenuta con il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, Quest'ultimo ha ritenuto che l'acclarata illegalità che regna nello spazio occupato, ormai ritrovo di merce contraffatta o ancor peggio refurtiva, impedisce ulteriore tolleranza. E a chi critica l'operato del primo cittadino, paragonandolo anche al leghista Salvini, Marco Alessandrini risponde così. Integrazione significhi anche e soprattutto il rispetto delle regole comuni e civili di convivenza, alla sicurezza, alla pubblica incolumità, sono concetti su cui in qualche modo non ci possono essere mediazioni. Per usare le parole del prefetto noi non ci possiamo permettere una scampia nel centro di città. C'è un luogo in cui le forze dell'ordine dello Stato sono scacciate, in cui si commettono traffici illeciti che non sono naturalmente solo la vendita di scarpe false, ma sono ricettazione, traffico di sostanze stuovacenti, prostituzione minorile. Dopo lo sgombero del mercatino sono montate le polemiche, soprattutto da parte degli esponenti della sinistra, in particolare di Selle, di Rifondazione Comunista. Tante le reazioni e le voci che si sono sovrapposte a seguito dell'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara. La prima reazione arriva dal rappresentante dell'ufficio immigrazione CGL, che dalle primissime ore del mattino ha presidiato il Palazzo del Comune in attesa di un confronto con il sindaco. Una cosa vergognosa, non avremmo mai aspettato questo comportamento. E questo mercato sta là da vent'anni, tutti i giunti comunali destra e sinistra sono passati. Purtroppo pensavamo come se una giunta amica che poteva fare questo sgombero. Comunque sia, vogliamo la soluzione. Sono più di 100 persone che hanno l'autorizzazione a fare quel commercio ambulante con le loro famiglie. Vogliamo vedere come possono vivere. Anche Selle fa sentire la sua voce. Dopo aver assistito tutta la notte all'operazione in corso, il pensiero ora vale attività necessarie a predisporre una nuova area dedicata al commercio ambulante. Noi denunciamo veramente, siamo abbastanza allibiti di quello che è accaduto questa notte. Per noi è una ferita molto forte che la pescara della solidarietà e i ragazzi senegalesi assolutamente non si meritavano. E credo che loro abbiano dato una grandissima prova di civiltà. Durissima la replica di rifondazione comunista dove Maurizio Acerbo sbandiera manifesti che paragonano il sindaco PD Marco Alessandrini a leghista Matteo Salvini. L'amministrazione di Pescara fa quello che Salvini dice che si dovrebbe fare. Alessandrini si è comportato come nessun sindaco di Pescara ha fatto di centrodestra o di centrosinistra. E' lui inadempiente perché non ha fatto quello che si era impegnato a fare, cioè allestire una sistemazione alternativa al mercatino dei senegalesi, regolarizzando la situazione come si era detto. Laddove ci sono dei reati riguardi i senegalesi o italiani, le persone responsabili vengono arrestate se sono arrestate, multate se devono essere multate, le merci sequestrate se devono essere sequestrate. Infine il centrodestra che solo due giorni prima aveva convocato una conferenza per sollecitare l'esecuzione di un'ordinanza emessa all'agosto scorso. In questo paese tutti hanno gli stessi diritti se assumono i medesimi doveri, gli stessi impegni degli italiani. E' impensabile per quanto ci riguarda che un italiano venga sfrattato dal mercato perché non paga la COSAP o la TARI e a chi non è italiano si permette di occupare abusivamente il suolo pubblico senza licenza commerciale. Andiamo avanti con il nostro giornale. Parliamo di cronaca giudiziaria perché esce di scena dal processo rifiutopoli il deputato del nuovo centrodestra Paolo Tancredi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso sentenza di non luogo a procedere per un presunto episodio di corruzione e favoreggiamento dell'imprenditore di Zio per la costruzione di un termovalorizzatore a Teramo. L'avvocato Renato Borzone, che ha difeso Tancredi, ha espresso soddisfazione e apprezzamento per l'esito del processo. Per il legale la responsabilità di Tancredi era palesemente insussistente, frutto di un acrobatico teorema accusatorio. Quindi si chiude dopo sette anni la vicenda giudiziaria che riguarda il politico teramano, che sempre, secondo l'avvocato Borzone, era incardinato in violazione delle norme sulla competenza territoriale. Andiamo ancora avanti. Avevano un vero e proprio arsenale, quattro indagati a piede libero, tutti residenti a Gioia dei Marsi in provincia di L'Aquila, accusati di detenzione illegale di armi e munizioni ad uso caccia. All'interno di un'abitazione, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno infatti trovato e sequestrato oltre 2.500 munizioni per fucili, 150 proiettili da pistola, e diverse armi, fra cui anche una pistola di dubbia provenienza. Secondo le intagini, i denunciati sarebbero stati soliti cacciare di frodo, anche in aree contigue al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. L'attività investigativa ha preso spunto dall'uccisione dovuta ad un'arma da fuoco di un esemplare di cervo adulto, un maschio di quasi 300 kg, avvenuta a metà marzo in un'area contigua di zona protezione esterna dell'area protetta del Parco nel comune di Gioia dei Marsi. Ora tutte le armi sequestrate saranno portate in laboratorio per la successiva comparazione balistica con il proiettile ritrovato nel corpo dell'animale. E cambiamo pagina, siamo alla politica, la riforma della Costituzione e la nuova legge elettorale non rispettano i principi fondamentali di democrazia, sovranità popolare e rappresentanza delle minoranze. Con queste motivazioni inizia la campagna referendaria per il no del Movimento 5 Stelle che ha lanciato una raccolta di firme. Sulla riforma della Costituzione il Movimento 5 Stelle inizia la sua campagna referendaria perché l'obiettivo è quello di far capire esattamente al cittadino che cosa si andrà a votare. L'obiettivo è di fare informazione contro la disinformazione e la propaganda di regime che sta compiendo il governo Renzi e il PD in generale. Ci raccontano che il Senato verrà abolito e il Senato non verrà abolito. Ci raccontano che sarà più facile approvare le leggi. Non è vero che ci racconta il falso perché ci saranno comunque due camere e comunque ci saranno più procedimenti e processi normativi per cui sarà ancora più caotico di prima. L'unica cosa che aboliscono è la possibilità per gli italiani di scegliere i loro rappresentanti. Cosa si voterà? Sono due gli argomenti. Si vota innanzitutto per la riforma costituzionale quindi sì o no alla riforma costituzionale noi diciamo assolutamente no e poi per l'italicum per quel premio di maggioranza che ci sembra assolutamente iniquo perché la cosa che dobbiamo ricordare è che il combinato disposto tra la riforma costituzionale e la nuova legge elettorale potrebbe portare veramente a un mix esplosivo nel senso che potremmo avere un senato a maggioranza PD e potremmo avere invece una camera come noi speriamo del Movimento 5 Stelle per cui sarà ancora più difficile provare le leggi. Un'altra iniziativa messa in campo dal Movimento 5 Stelle è quella di una mappa interattiva che spiegherà dove saranno tutti i presidi all'interno dei quali potersi informare questo sul sito? Sul sito www.movimento5stelleabruzzo.it ci sarà tutto ci saranno tutti i gazebo dove poter firmare saranno indicati i comuni dove raccoglieremo le firme i convegni che faremo e tutte le iniziative che il Movimento 5 Stelle prenderà per difendere la Costituzione e il diritto degli italiani. E noi ora andiamo all'Aquila dove è stato presentato l'accordo di programma che rivoluzionerà dal punto di vista urbanistico l'area di Porta Barete e Villa Gioia Filippo Tronca Rivoluzione urbanistica nell'area di Porta Barete che il comune dell'Aquila si appresta a riportare al suo antico splendore e nell'area di Villa Gioia a fianco al Tribunale dove ora c'è anche la sede del Consiglio Comunale La famigerata palazzina del Civico 207 ha annunciato infatti oggi l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano non potendo essere ricostruita davanti alla porta più antica della città risalente al XIII secolo area ora vincolata potrà essere delocalizzata nell'area dove ora ci sono i ruderi delle ex magistrali a Villa Gioia di proprietà comunale con buona pace dei condomini che ancora fanno resistenze il bene pubblico deve prevalere su quello privato ha sottolineato Di Stefano se i condomini sono d'accordo a delocalizzare a Villa Gioia a meno di 200 metri è bene altrimenti la parola per quanto mi riguarda passa ai giudici ma non solo non verranno ricostruite buona parte delle parole di Di Stefano orribili palazzine costruite a ridosso delle mura insulti alla decenza dell'edilizia anni 60 visto che i condomini hanno questa volta tutti o quasi accettato di delocalizzare in altre aree o permutare con appartamenti comunali le loro vecchie proprietà le cinque palazzine ne resteranno accorpate solo due e molto più a monte dell'area di Porta Barete in questo modo Gongola di Di Stefano si potrà recuperare l'intera area con la riapertura dell'antica porta la creazione di un'area verde archeologica e la rimozione di tutto il terrapieno della parte iniziale di via Roma nonché l'abbattimento di un altro orrore architettonico il ponte di cemento che sovrastra Porta Barete e le mura a Villa Gioia poi saranno create aree verdi e altri parcheggi anche qui con una salutare opera di diradamento edilizio è ambizioso ma aggiungiamo che è anche voluto è voluto dall'intera città almeno il recupero dell'area di Porta Barete quella che viene definita nelle mappe storiche la porta principale della città e la riorganizzazione del complesso di Villa Gioia dove una centralità di carattere amministrativo giudiziario già si è realizzata e si tratta di una riorganizzazione urbanistica di un bel pezzo di città sia nella parte storica sia nella parte direzionale e qualche soluzione importante per gli abitanti che abitavano a ridosso di Porta Barete Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono in parte quelle che avevamo già detto cioè l'indennizzo diretto per l'abitazione principale la permuta dell'abitazione diversa dalla principale con immobili del comune in più un'area dove poter ricostruire per coloro che vogliono invece ricostruire la casa Parliamo ora di sanità perché si è svolto a Tortoreto il convegno biennale di nefrologia oltre 400 medici provenienti da tutta Italia hanno illustrato i risultati del quinto censimento della dialisi peritoneale e ha annunciato la nuova terapia Elisa Leuzzo oltre 400 medici provenienti da tutta Italia hanno preso parte al diciottesimo convegno biennale del gruppo di studio di dialisi peritoneale della società italiana di nefrologia Abbiamo avuto un record di partecipazione per confrontarci con gli altri anche paesi europei abbiamo invitato due medici due nefrologi londinesi uno di Coventry Londra e uno di Bruxelles che hanno portato la loro testimonianza e quindi dal livello scientifico è stato molto alto di questa manifestazione Nel corso dei lavori sono stati resi noti i risultati del quinto censimento della dialisi peritoneale con l'annuncio della nuova terapia che consente ai pazienti di poter essere trattati nel proprio domicilio piuttosto che recarsi tre volte alla settimana in ospedale per l'emodialisi Abbiamo avuto ospiti da tutta Italia per discutere di tanti argomenti anche dei dati del nuovo censimento nazionale delle strutture di dialisi peritoneale che dimostra come questo tipo di trattamento che è facile che si fa a casa quindi agevole ai pazienti che non devono andare tre volte alla settimana nell'ospedale è avuto una crescita notevole negli ultimi due anni con un aumento dell'incidenza del 15% e a dimostrazione della qualità della nefrologia italiana anche il tasso di peritonidi di complicanze è molto sceso Un traguardo importante visto che solo in Italia circa 39.000 persone soffrono di malattie croniche del rene il 94,7% dei pazienti è attualmente dei nemodialisi E parliamo ora di ambiente perché il WWF Abruzzo e l'Istituto Abruzzese per le aree protette insieme per dare un futuro alle aree naturali protette per fare economia e rilanciare la regione se ne è parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa Elisa Leuzzo WWF Abruzzo e l'Istituto Abruzzese aree protette insieme sul tema un futuro per le aree naturali protette regionali un futuro per l'Abruzzo e nell'occasione viene anche presentato un convegno che ci sarà Qual è il futuro intanto delle aree protette? Il futuro delle aree protette oggi è un po' incerto diciamo ci sono delle nuvole all'orizzonte noi cerchiamo con questo decalogo di stimolare la regione Abruzzo a migliorare ad attivare alcune politiche e rimettere al centro soprattutto le aree protette nelle politiche della regione Abruzzo ci sono cose che si possono fare che non richiedono diciamo dei grossi investimenti ma semplicemente nel fare rete e nell'unire quelli che sono gli sforzi cercando di anche andare a ottimizzare le risorse che si investono valutando anche l'efficacia e l'efficienza Vista di questa prima conferenza regionale delle aree protette qual è l'obiettivo del convegno? L'obiettivo intanto è portare il lavoro che è stato fatto in questi due mesi nelle Oesi con le comunità con gli amministratori con i cittadini con gli professionisti con gli operatori economici che vivono all'interno delle aree protette quindi abbiamo raccolto e costruito insieme questo documento non è solamente frutto del WWF ma è un lavoro condiviso e appunto è uno stimolo e un contributo alla conferenza regionale per cercare appunto di mettere a quadro e a fuoco quelli che sono i punti su cui si può lavorare insieme su cui si può fare rete e migliorare noi siamo allo sport per vedere gli arbitri che dirigeranno le gare di venerdì sera ultima giornata di campionato in Serie B per quanto riguarda la gara dell'Adriatico Pescara Latina è stato designato il signor Baracani della sezione di Firenze a Livorno per Livorno Virtus Lanciano ci sarà invece il signor Nasca di Bari e parliamo del Pescara oggi allenamento per i Biancazzuri brutte notizie per Torrera che si è infortunato ha riportato una contusione all'arretto femorale il giocatore uruguaiano dovrà così saltare la gara con i pontini al suo posto probabile l'impiego dell'ex di turno Alessandro Bruno allenamento differenziato per Memushai e Lapadula che domani torneranno in gruppo pronto a tornare invece in campo dopo un mese e mezzo Campagnaro noi abbiamo ascoltato Francesco Zampano sì mi rito anche grazie al Ministro comunque che ha creduto in me fino all'inizio dell'anno mi ha dato una mano come tutta la difesa poi essendo il mio ruolo mi dava giusti movimenti giuste posizioni del corpo quindi è un gran merito anche suo l'anno scorso dicevano magari bravo nella spinta ma alcune e alcune in fase difensiva penso di aver migliorato non del tutto perché ancora bisogna devo dimostrare ancora tanto però penso di aver migliorato qualcosa in fase difensiva quando ho deciso di venire di essere tutto del pescare comunque ero molto contento sapevo della fiducia del mister che è fondamentale dell'ambiente tifoio anche come società sepevo che era una grande società e quindi non me l'aspettavo comunque che magari il Verona ritrocedesse in Serie B e noi magari possiamo arrivare in Serie A quindi è stata una scelta che sono stato molto contento penso che noi quest'anno stiamo facendo un gran campionato speriamo di arrivare comunque terzi venerdì sera speriamo anche che ci sia un gran pubblico che è fondamentale arrivare terzi penso che come ho sempre detto dipende tutto da noi come dice anche il mister se noi giochiamo come sappiamo giocare penso che non ci sappia nessuno come ho detto anche se comunque ci sono squadre molto attrezzate come Spezia, Cesena ma anche il Bari ma tutte quante noi dobbiamo cercare sempre di allenarci bene e cercare di dare il massimo il sabato e cercare di arrivare in fondo siamo molto contenti tutti ma anche vedo rispettare lo scorso i tifosi sono molto compatti uniti penso che lo scorso settimana sia stato il record dei spettatori al derby contro il Lanciano e niente siamo fiduciosi abbiamo una grande voglia di arrivare in Serie A di lottare su ogni pallone e di vincere ogni partita L'imminente arrivo di un nuovo deferimento a carico della Virtus Lanciano surriscalda gli animi in vista della volata salvezza e della gara di Livorno la società frentana non ci sta e ieri con un duro comunicato si è chiesta che fine abbia fatto l'inchiesta Treni del Gol e ha affermato di essere pronta a presentare esposti alle varie istituzioni sportive Andrea Costantini non bastassero il campo e la classifica sono di nuovo le vicende della giustizia sportiva a infiammare la lotta per la permanenza in Serie B tirate in ballo ancora una volta la Virtus Lanciano che non ci sta e alza la voce lamentando una palese disparita di trattamento la restituzione di tre punti operata dalla Corte Federale d'Appello ha generato disappunto malcelato di altre società su tutte proprio del Livorno e del Presidente Spinelli ad appena una settimana di distanza dal verdetto d'Appello ecco che dalla Procura Federale arriva la Virtus Lanciano un nuovo avviso di conclusione delle indagini a breve dunque un altro deferimento cadrà sulla testa della società frentana Procura che cerca di rimediare ad un errore commesso nel precedente deferimento quando le omissioni amministrative erano state imputate all'amministratore di Menno di Bucchianico che però all'epoca di fatti era inibito per un precedente procedimento sportivo e quei documenti non era tenuto a firmarli lo era invece il DS Luca Leone che finisce dunque coinvolto in questo procedimento la Virtus rischia di essere penalizzata fino a due punti ma il pool di legali punterà sul principio che una società non può essere processata due volte per la medesima violazione e al massimo in quest'ottica potrebbe rischiare una sanzione il solo DS al di là della linea difensiva la stizza della società della famiglia Maio è emersa dalla nota di ieri lascia interdetti l'inusuale celerità del trattamento che la giustizia sportiva ha riservato alla Virtus Lanciano e dall'altra parte il placido torpore utilizzato per le vicende che hanno visto protagonisti altri club di serie B così recita il comunicato e il riferimento è all'inchiesta Treni del Gol che ha portato alla retrocessione del Catania che ha comprato partite ma non vi sono tracce di procedimenti sportivi di quelle altre squadre coinvolte e i cui tesserati si sarebbero macchiati di comportamenti da illecito sportivo tra le squadre due sono in lotta per la salvezza una è proprio il Livorno l'altra il Latina di fronte alla mancanza di spiegazioni da parte delle istituzioni sportive la Virtus Lanciano è pronta a presentare esposti alla Procura Federale alla Federcalcio al Coni e alla Lega di Serie B affinché anche questi procedimenti sportivi vengano prontamente istruiti e tutte le squadre in questione siano sottoposte alla giustizia sportiva in questo clima si annuncia elettica l'assemblea di Lega di Serie B di oggi che potrebbe ratificare lo slittamento delle date dei play-out 26 maggio e 2 giugno al momento proprio per consentire la celebrazione del suddetto procedimento così come si annuncia ancora più infocata la gara del Picchi di venerdì sera proprio tra Livorno e Virtus Lanciano da Morstua Vitamea ai giocatori di Maragliulo non resta che isolarsi da tutti questi contesti e trovare tutte le residue energie per tentare l'impresa in uno stadio che va verso il tutto esaurito e dal calcio al calcio a 5 l'acqua e sapone è stata battuta ieri sera al pala Sanquirico di Asti per 4 a 2 serie di semifinale ora sull'1 a 1 domani sera sempre in terra piemontese la gara decisiva la gara 3 che deciderà chi approderà al turno successivo chi vincerà infatti si giocherà la finale scudetto Andrea Costantini si va a gara 3 l'acqua e sapone non riesce nell'impresa di chiudere la serie di semifinale a gara 2 e allora tutto sarà rimandato alla bella di domani sera sempre al pala Sanquirico di Asti chi vince va in finale scudetto eppure ieri sera c'è stato un momento in cui la squadra di Massimiliano Bellarte ha avuto la possibilità di dare una spallata definitiva agli Orange che però da grande squadra che peraltro ha primeggiato in regular season ha reagito nella fase di massima difficoltà ribaltando le sorti del match gara 2 ha visto la prima frazione concludersi sulla parità senza reti le emozioni si sono concentrate nella ripresa dopo 4 minuti e mezzo Jonas va in 3 contro 1 e serve Mimi che con freddezza batte e spindola portando in vantaggio l'acqua e sapone che subito dopo ha il colpo del KO quando Jonas calcia verso la porta sguarnita ma c'è il salvataggio di Nora a questo punto Asti si rialza in una manciata di secondi dopo 7 minuti Crema sfrutta un calcio piazzato e indirizza il pallone all'incrocio 1 a 1 passano altri 40 secondi e lo stesso Crema firma il sorpasso monetizzando l'assist di Cimanghigno e la sbandata dell'acqua e sapone Bellarti inserisce subito Burrito portiere di movimento ma proprio il numero 2 viene infilato da Cimanghigno a seguito di una repentina azione di rimessa innescata dal portiere Astigiano l'acqua e sapone tenta il tutto per tutto Jonas con un tiro libero riapre i giochi a 100 secondi dalla fine ma nell'ultimo minuto una leggerezza di Burrito consegna a Bertoni il pallone del definitivo 4 a 2 Serie alla bella come l'altra semifinale anche a Real Rieti e Luparenze sono sull'1 a 1 Andiamo ancora avanti Pescara ospiterà il 20, 21 e 22 maggio le finali nazionali di calcio e calcio a 5 Wisp oltre mille gli atleti che si confronteranno sui campi di Pescara e Montesilvano Vediamo Assessore Diodati Labruzzo Pescara in particolare il capologo Adriatico ospiterà le finali nazionali di calcio Wisp una bella vetrina per la nostra città Devo ringraziare la Wisp per i grandi sforzi che ha fatto e che è riuscita a portare questi campionati italiani qui a Pescara per noi è una grande vetrina cercheremo di mostrare le nostre principali caratteristiche dal punto di vista sportivo e dal punto di vista della città e quindi insomma ci aspettiamo una ricca partecipazione mi dicono gli organizzatori che supereremo le mille persone quindi grande soddisfazione per far conoscere la nostra città nel territorio e nel panorama sportivo nazionale verranno utilizzati tutti i campi di calcio cittadini perché si tratta di una manifestazione importante visto che ci saranno partite di calcio a 11 partite di calcio a 5 partite maschili partite femminili quindi abbiamo avuto richiesta di una grande quantità di campi e di ore per cui abbiamo dovuto mettere in campo tutte le nostre forze e mettere a disposizione tutti gli impianti sportivi comunali abbiamo i vertici a Pescara del calcio Wisp proprio la città di Pescara per l'ennesima volta Baldi ospita una manifestazione così importante soprattutto le finali di calcio un successo per il comitato Abruzzo Molise sì sicuramente sì torniamo a Pescara dopo qualche anno e lo facciamo sempre con la grande accoglienza che ci riserva comunque il territorio mi viene da ringraziare la regione Abruzzo il comune di Pescara il comune di Montesilvano che si sono adoperati per far sì che questa manifestazione riesca nel migliore dei modi e siamo così giunti al termine di questa terza edizione del Tg6 grazie come sempre per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di una serena notte grazie a tutti